Buongiorno a tutti, io vi porto i saluti del professor Serrati che doveva essere qui, purtroppo è un'altra sede e quindi sono io a sostituirlo. Allora, da neurologo o comunque da medico che deve fare il neurologo a bordo è difficile perché comunque le situazioni non è da gestire un infarto, una cosa unica, ma sono tante le situazioni che ci possiamo presentare. Io mi sono immedesimata non da neurologo ma da medico di bordo, cosa mi potrebbe capitare vedendo un paziente, da soccorrere un paziente. Quello che possiamo trovare, possiamo trovare disturbi acuti al comportamento, una maurosi acuta completa, delle sindrome dolorose gravi, la cefalea, cefalea in tutte le sue manifestazioni, disturbi della coscienza transitori e nonne, un'amnesia acuta, una prima crisi epilettica oppure in un paziente che è già noto epilettico, dei deficit neurologici focali ad esordio acuto, quindi nel campo dell'ictus dei TIA, un deficit di forza agli arti ad esordio acuto e subacuto, quindi ad esempio i quattro arti insieme, le vertigini, contratture muscolari, intossicazione da alcol, overdose da opiacei e crisi glicemiche. Sono veramente tante, non sicuramente non le posso gestire tutte in questi 20 minuti, io focalizzerei più l'attenzione su alcuni argomenti e poi eventualmente le domande possono utilizzare alle vostre curiosità. Allora, nel 2002 su Neurology era stato pubblicato questo articolo curioso dove era stata fatta un'indagine che era volta ad accettare se la cassetta d'emergenza in dotazione dei velivoli, quindi era stato fatto a bordo di aerei, è adeguata alle effettive necessità che si verificano in volo. Era un'indagine svolta per cinque anni. E quello che è stato, diciamo, visto è che tra le cause di atterraggio di emergenza i disturbi neurologici dopo le patologie, diciamo, cardiovascolari erano al secondo posto. E con quali, diciamo, sintomi o comunque quadri neurologici potevamo, appunto, trovarci davanti? Su 2042 consulti il 31% era dovuto a disturbi come vertigini, convulsioni, cefalea, dolore e disturbi cerebrovascolari e questi hanno portato a circa il 34% di rottamenti per un atterraggio di emergenza. Quindi, voglio dire, non è una cosa trascurabile e non è facile capire che cosa fare se, diciamo, chiamare soccorsi veri o gestire il paziente a bordo. Quello che secondo me è importante è, secondo me, che sarebbe bello avere un passaporto neurologico o comunque un passaporto medico di chi è il paziente, l'identikit del paziente. Diciamo che avere un paziente quarantenne con analisi negativa completamente che improvvisamente ha un disturbo dell'eloquio, non muove un lato, beh, certo sì che questo mi rende, diciamo, attenta perché è un disturbo acuto che ha un'insorgenza inaspettata e che comunque mi deve far raddrizzare sicuramente le orecchie. Mi spaventerei un po' meno se il paziente, un paziente, se io so già che è un paziente cefalalgico cronico che ha la sua solita cefalea, magari più intensa perché comunque a bordo, spaventato del viaggio perché poi bisogna considerare anche le varie personalità, o un paziente che è un epilettico quindi mi spaventa meno, oppure un paziente cronico, un paziente demente, un paziente quindi che va in confusione, quindi cronico con acuto, un paziente con una sclerosi multipla, quindi che ha una patologia già cronica che magari sotto il giorno al sole improvvisamente presenta la sua solita vertigine o un deficit di forza, o un paziente con una sclerosi laterale amiotrofica, beh, certo è, sì, è importante, ma comunque mi devo spaventare meno perché è più gestibile. Quindi, se io immagino un ipotetico paziente che trovo per terra, che fatica a parlare, io arrivo, lo trovo incosciente, si risveglia, dopo qualche minuto risponde confusamente a semplici domande, ma poi riperde di nuova conoscenza, beh, io qui non devo fare diagnosi, ma devo capire, mi trovo dove? In un'emergenza e cosa devo fare? Importante l'anamnesi, non ci dimentichiamo l'ABC o comunque l'anamnesi e le mani, cioè non abbiamo altro a bordo, soprattutto dal punto di vista neurologico, è facile essere in un pronto soccorso in un ospedale di terzo livello dove l'attacca ci potrebbe risolvere sicuramente i quadri, però io devo cercare di raccogliere notizie da testimoni, quindi capire l'esordio dei sintomi neurologici, se il paziente da qualche giorno che per caso sta male, se fa di farmaci e se già ha delle malattie preesistenti. Importante un esame obiettivo generale e neurologico, del generale, ecco, per rimanere, diciamo, vedendo la punta dell'iceberg neurologica, se io considero il ritmo cardiaco, ad esempio una bradicardia severa, ci può indicare verso un'ipertensione endocranica, quindi valutare la pressione arteriosa, e questo avete già sentito, comunque, un'ipertensione grave, ci può sospettare un'emologia cerebrale, il respiro, la temperatura, la cute, il cuoio capelluto, un trauma recente, cranico, la lingua epilettico, il morsus, il collo, se è rigido, gli arti, perché comunque trovare una mono, una emiplegia, una paraplegia, una tetraplegia, se il paziente è decortica o decerebra, ci dice sicuramente il grau di urgenza. E le pupille. Quindi, importante in un paziente che ha perso coscienza, capire il coma che io ho davanti, un coma organico, strutturale, cioè c'è il cervello interessato, o abbiamo un quadro organico, tossico-metabolico, che in qualche modo io posso gestire. E ci aiuta sicuramente a capire il grau della coscienza, le pupille, e come il paziente si pone, come lo vediamo e come lo valutiamo. Quindi la curiosità è di essere veramente degli investigatori. La Glasgow non ci sto a perdere del tempo, ma una Glasgow di tre sicuramente ci allarma. Qui non perdo tempo sulle definizioni, che sicuramente sapete, voglio solo portare attenzione che circa un terzo della popolazione può essere affetto una volta nella propria vita da questa sintomatologia. Questo salto anche. L'eziologia del coma è varia, va dal traumatico, va dall'infettivo, va scolare, tumorale, epilettico, da alterazione della termoregolazione, metabolico, quindi lipoglicemia, e tossico. Quello che vi voglio un attimino così, per fare una diagnosi differenziale, il coma metabolico non ha deficit focali neurologici. Quindi il paziente è simmetrico, il tronco è intatto, non ha rigor, e le pupille sono simmetriche, reagenti non puntiforme. Quindi non c'è un danno strutturale. Il coma organico strutturale. Il tossico metabolico però, ecco, ha una reattività pupillare alla luce sempre conservata, tranne in queste situazioni, dove ad esempio l'anossia possiamo avere una midriasi bilaterale, negli opiacei, una miosi, quindi tutte situazioni che queste possiamo anche già risolvere immediatamente. Il coma organico strutturale ha comunque un richiamo o pupillare o motorio, ad esempio, come dicevo, nell'anossia pupillimidriatica, ci può essere rigor nucalis, nel danno del tronco encefalico paziente de cerebra, quindi vi faccio vedere un'immagine di come vediamo il paziente a terra, ci può essere una risposta motoria assente, stereotipata o asimmetrica. Il coma farmacologico, anche questo, non dovrebbe spaventarci come, diciamo, punto neurologico, perché non ci sono segni focali, bisogna comunque capire quanto farmaco ha preso, perché la coscienza è compromessa a seconda della dose assunta, e il paziente si presenta flaccido, con riflessi tendinei deboli assenti e assenza di risposte motorie. Esistono delle cause risolvibili immediate. Io posso capire subito se, con dei farmaci che sicuramente a bordo abbiamo, se il paziente è intossicato da opioidi, se in ipoglicemia, di abbenzo di azepine, se è davanti a una crisi epilettica o stato postcritico, se è fatta la solita sbronza o un alcolista cronico. Quello che vi parlavo della postura, il paziente con stimoli, diciamo, dolorosi, può essere, diciamo, può essere visto, di trovarlo in postura decorticata, quindi meno coma, meno profondo rispetto a una decerebrata, quindi, diciamo, più profondo, decerebrato è una lesione del tronco encefalico, flaccido, ad esempio, nel coma farmacologico. Importante il vedere gli arti, quindi, dicevo, mono, emi, para, tetrapelegia, far stringere una mano, far sorridere al paziente, richiudere gli occhi e capire se ha disturbi anche del linguaggio. Attenzione, non confondiamo un emiparesi dopo una crisi epilettica, quindi la cosiddetta parasi di Todd, dopo una crisi, o dopo un coma ipoglicemico come ictus, perché ictus non sono. valutare la sensibilità, le pupille, dicevo, perché è importante anche queste, soprattutto ci spaventiamo in questo quadro qua, quando praticamente abbiamo una nisocoria, una midriese in una parte, questo è un danno generalmente pontino, comunque troncale profondo. Quindi, ricapitolando, abbiamo già visto che non è un'evenienza rara, è comunque trovare una perdita di coscienza, lo svenimento, lo shock, il trauma cranico, l'ictus, l'epilessia, tutte queste condizioni possono essere, diciamo, la causa di una perdita di coscienza. Forse invece quello che spaventa più a chi è a bordo è quando ci dobbiamo trovare davanti a capire se ha un ictus. E soprattutto se l'ictus è un ictus ischemico o emorragico, e cosa fare? Teniamo presente che l'80% della popolazione che ha un ictus è ischemico, mentre al 20% è emorragico. Di quel 20% che è emorragico, il 3% è un'emorragia subaraconidea, soprattutto appannaggio dei giovani. E io, quello che vi voglio porre più attenzione è proprio l'emorragia subaraconidea, questa sì che è un'emergenza, perché va subito comunque dirottato, comunque il paziente va subito portato a terra, perché sotto questa ci può essere un aneurisma che è sanguinato e comunque la possibilità di che questo possa risanguinare, peggiorare il quadro, è molto alta nelle prime ore. Quindi è un'emergenza l'ictus. L'ictus emorragico è più a rischio di morte rispetto a quello ischemico. Quello che, un'altra cosa che io voglio focalizzare, non scambiate una paralisi di bella a frigore per un ictus, cioè semplicemente far sorridere il paziente, far chiudere gli occhi, capiamo subito se è una paralisi periferica o centrale. Centrale, proprio detto in parole semplici, non muove la parte inferiore, quindi c'è una paralisi dell'inferiore, del settimo. Nella paralisi totale, quindi periferica, non ha un deficit di tutta l'emifaccia. Quindi non è ictus. Difficile dire è ischemia o emorragia, perché i sintomi si sovrappongono. Certo è che entrambi possono anche esordire con una crisi epilettica. Vi dico già che l'emorragia è più a pannaggio per esordire in questo modo. Se il paziente ha cefalea, vomito e getto ripetuto, ci indirizziamo verso un'emorragia. Io posso pensare a un'ischemia se il paziente, magari c'è la moglie intorno, perché c'è sempre qualcuno che parla e dice ma in qualche giorno che continua a non parlare, poi ritornando. Quindi TIA ravvicinati, tenendo presente che comunque chi ha un ictus ha nella sua storia più o meno nel 15-20% dei TIA. Un deterioramento a gradino progressivo, non è acuto come potrebbe essere un'emorragia. E poi i segni neurologici focali corrispondono precisamente a un territorio arterioso. Nell'emorragia invece abbiamo spesso una precoce e prolungata perdita di coscienza, cefalea, nausea e vomito, una rigidità nucale. Altra cosa, guardate gli occhi perché comunque spesso si possono trovare delle emorragie retiniche e i segni focali non corrispondono a un territorio vascolare preciso. Cosa dovete evitare? Non somministrate i potensivi, soprattutto quelli a rapidi. E cosa intendo questo? Certo è che se il paziente ha 250 su 150-120, beh lì sì che dobbiamo utilizzare. Però attenzione perché se un ictus ischemico con 180 su 100 io non starei tanto ad abbassargli la pressione in un modo veloce anche perché comunque andremo a dare a quel minimo tessuto cerebrale che ancora è vivente una possibilità che i neuroni muoiano. Non somministrare glucosate, quindi glucosio e temperatura elevata sono veleni per il cervello, quindi se la temperatura è elevata abbassiamo anche la temperatura. non diamo corticosteroidi, l'edema dell'ictus è diverso dall'edema del tumore cerebrale, sono due edemi diversi, quindi anche il corticosteroide è veleno e soprattutto potrebbe andare a fare uno scompenso metabolico iperglicemico e quindi insomma il quadro ha un peggioramento. Quindi ipertermia, iperglicemia, ipoglicemia e questo è per quanto riguarda l'ictus. Altro quadro che ci può spaventare è la cefalea. Cefalea è importante, il paziente è già cefolagico noto, quindi generalmente hanno i loro farmaci con sé. Il problema è quando la cefalea arriva in un paziente che non ha mai sofferto di mal di testa. Quindi questi sono i quadri, quindi soprattutto se esordisce con una crisi epilettica, se c'è la febbre, se hanno avuto un trauma cranico recente, se il paziente è confuso, ha perso coscienza, cambia la personalità improvvisamente, o un mal di testa che è diverso dai precedenti mal di testa, perché ne è detto che un cefalagico non possa avere un'emorragia supera con idea. E se la cefalea è un'encefalea, così, a rombo di tuono, come si dice, il mal di testa più forte della mia vita. Quali sono le cefalea pericolose? Le avete qui elencate. Direi che io non posso dirvele tutte, vorrei dare più attenzione all'emorragia supera con idea, dove la cefalea spesso è il sintomo più importante, si presenta improvvisamente, acutissima, lancinante, appugnalata, viene definito, il dolore è continuo, non regredisce, e la sede è spesso frontale o cipitale, e può irradiarsi addirittura anche a livello interscapolare o al dorso. Persiste nel tempo, quindi questa cefalea può avere diversi sintomi associati, questi li vedete elencati, vi dico che spesso una crisi convulsiva in un paziente che non ha mai avuto convulsioni può essere l'espressione di un'emorragia supera con idea. Le convulsioni, altro caso che vi potete trovare, paziente noto con convulsioni non ci spaventa più di tanto e ci spaventa quello che non è noto, e quindi non solo l'epilessia può dare crisi convulsive, ma anche tumori cerebrali, infezioni, febbre, ictus, come abbiamo già detto, e così via. Il paziente durante la crisi, chi ha visto una crisi epilettica non se la dimentica, e quindi comunque riesce a riconoscerla, quello che è da ricordare è che il paziente dopo la crisi ha un'emnesia per l'accaduto e generalmente è confuso e tende comunque ad avere un soppore. Quello che secondo me focalizzerei è che la differenza tra una sincope e un'epilessia è importante farla, per in quanto la sincope, il paziente rimane incosciente per pochi secondi, non ha incontinenza la sincope, il paziente non è confuso, non ha movimenti tonico-clonici, questo non ci interessa perché non possiamo farlo, generalmente la sincope non risponde a farmaci antipilettici. Quindi, se il paziente però è già noto, considerare, perché il paziente che va in vacanza si dimentica di prendere i farmaci, beve, va in discoteca, interrompe, quindi è importante capire e riportarlo alla sua igiene abituale del paziente epilettico. Durante la crisi cosa fare e cosa non fare? Non cercare di trattenere il paziente, cercare di avere la prività delle vie aeree, proteggerlo, quindi allentare gli abiti stretti, allontanare oggetti che potrebbero ferirlo. Dopo la crisi i curiosi vanno allontanati, perché comunque, questo in tutte le patologie naturalmente, il paziente va a tenuto calmo, rassicurarlo, dare ossigeno e comunque poi mettere anche un accesso venoso, perché non è detto che il paziente non possa fare uno stato di male, cioè fare in modo continuo e ravvicinato più crisi. Quello lì sì che è un'emergenza neurologica. Altro quadro sono le vertigini, anche qui io non posso stare a parlare di vertigini, quello che vi voglio focalizzare è che la vertigine isolata non è un'emergenza neurologica, la vertigine diventa emergenza quando abbiamo dei segni focali associati, dismetria, disfonia, disfagia, perché qui, attenzione, c'è un problema probabilmente del circolo posteriore e quindi, ad esempio, un ictus in fossa posteriore. Una diagnosi differenziale così molto semplice tra vertigine centrale e periferica, la centrale è quella che ci spaventa naturalmente, generalmente nella periferica sono molto molto sintomatici, sono quasi inquieti, hanno nausea, vomito, non sentono, non hanno segni neurologici associati, quindi questa è una diagnosi molto importante. E con questo finisco con il paziente psichiatrico, perché spesso a bordo troviamo pazienti che vanno magari in attacco di panico, quindi paziente mai conosciuto, che si può spaventare, claustrofobia, insomma una serie di quadri variopinti, ma esattamente anche il paziente psichiatrico noto. Quindi non bisogna assolutamente aggredirli o, dal punto di vista verbale, non mentire comunque di diciamo chi siamo e cercare di ascoltarli, non minimizzare mai perché potremmo peggiorare il quadro. Quali patologie organiche possono presentare un disturbo del comportamento? Le vedete qui elencate. Quello che volevo appunto ancora sottolineare è come gestirli questi pazienti, cioè mantenere sempre un comportamento professionale, mantenere la calma, non reagire, perché spesso insultano questi pazienti, quindi non reagire, parlare con il soggetto e far capire che la sua patologia è importante, come potrebbe essere un infarto, valutare comunque sempre se ha altri sintomi associati per capire che non è solo un disturbo del comportamento semplice da trattare con una semplice benodazepina o altro. I farmaci vi consigliate a bordo? Io più o meno, ora non so bene tutta la cassetta cosa contenga, però direi che con questo possiamo forse fare qualcosa. Bisogna essere detective, usare gli occhi, ascoltare, vedere gli odori, cioè nel senso che qui non abbiamo nulla e l'esperienza sicuramente ci aiuta, voi sicuramente avete esperienza, quindi curiosare, chiedere testimoni e vedere, perché comunque certe emergenze neurologiche a bordo possono essere trattate. Grazie per l'attenzione.